Sindaco, molti ci chiedono quando tornerà l'acqua, o meglio, quando si potrà tornare a berla a Bastomarina. Oggi due ordinanze, sembrava tutto risolto, poi cosa è successo? Una revoca della revoca? In pratica manca il provvedimento finale dell'ASL che entro le 24 ore arriverà, poiché sono state chieste ulteriori analisi supplettive, per cui siamo in attesa di queste analisi. C'è un parere di conformità dell'acqua di Bastomarina, San Salvo e Montenero da parte dell'Arap, che è il consorzio industriale. La normativa prevede che a questo parere bisogna agganciare quello dell'ASL. L'ASL ha chiesto un'ulteriore indagine supplettiva, però già l'Arap, già gli esperti ci dicono che si può tranquillamente cucinare, tranquillamente lavarsi, in via precauzionale evitare di berla. Per cui aspettiamo le altre 24 ore prima di arrivare a un provvedimento definitivo che ci consenta di tornare alla normalità. Purtroppo è un avvenimento che si è verificato, come sapete, in queste ore, insieme al Sindaco di San Salvo, sul tavolo della crisi idrica, porremo anche questa questione chiedendo ulteriori indagini e certezze per il futuro.